La scena dell'incidente racconta anche a chi non l'ha vista quanto forte debba essere stato l'impatto tra lo scooter a bordo della strada, in parte distrutto, pezzi del veicolo sparsi sulla strada e sul marciapiedi, il bauletto, il casco e poi il sangue ovunque. E' quel corpo ormai privo di vita investito in pieno dal mezzo, lo sguardo attonito e il dolore di numerosi automobilisti e di quanti hanno realizzato davanti al telo bianco steso sulla strada che su quel tratto del lungomare di Salerno in via Marconi si era consumata l'ennesima tragedia delle strade. La vittima è TM, un uomo di 84 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali dove i rilievi successivi dei vigili urbani e poi della polizia hanno rilevato la frenata del veicolo. Erano le 8 di questa mattina, alla guida del veicolo che lo ha preso in pieno un medico cardiologo dell'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno che stava andando al lavoro quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei vigili urbani e della polizia, ha investito la vittima. Sul posto l'ambulanza dell'Humanitas che ha potuto fare poco per l'anziano che ha riportato un evidente trauma cranico. In un primo momento sono apparse gravi anche le condizioni del conducente dello scooter sbalzato dal veicolo e riverso a terra, privo di conoscenza. L'uomo trasportato in codice rosso a Ruggi è rimasto per lungo sotto shock, ma gli esami, compresa un'attacca, hanno dato esito negativo per lui, solo ferite non gravi. Complicate invece le operazioni di rilievo sul posto, l'incidente si è verificato in un momento di intenso traffico, era l'orario di ingresso al lavoro e nelle scuole. Per la polizia urbana è stato complicato anche limitare il passaggio in attesa dell'arrivo del medico legale per poter rimuovere la salma. Un tratto del lungomare è stato interdetto. Dieci anni fa, nello stesso punto, perse la vita anche Silvio Adinolfi. Anche lui stava attraversando la strada.